Buonasera a tutti, questa sera presenteremo l'ultimo testo di Rosanna Turcino-Bicegiuricin scritto insieme a Rossana Poletti. Questa serie di incontri rientra nel progetto I giovani sulle tracce della memoria della regione autonoma Friule-Venezia Giulia, conoscere per ricordare storie del confine orientale. Io rappresento naturalmente la NBGD di Gorizia, per chi non mi conosce magari è il caso di presentarmi, mi chiamo Maria Grazia Ziverna e sono la presidente della sezione di Gorizia dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e noi abbiamo il patrocinio della UIL Scuola, dell'IRASE, della Prefettura di Gorizia e del Comune di Gorizia. Ecco il testo che presentiamo oggi, come dicevo, è dal titolo Tutto ciò che vidi, parla Maria Pasquinelli, 1943-45, fossi comuni, foibe, mare. All'interno c'è l'elenco dettagliato degli italiani istriani trucidati dai titini in Istria nel corso della prima ondata di violenza, cioè quella dal settembre dell'ottobre del 1943. Vediamo Rosanna Turcino-Bicegiuricin, un'amica per noi, più volte è venuta a presentare i suoi testi in presenza qui da noi a Gorizia. È nata a Rovigno, vive e lavora a Trieste, è una giornalista ed è direttore della Voce di Fiume. Ha collaborato con numerose testate giornalistiche e televisive realizzando documentari storici e biografici su personaggi e vicende dell'Adriatico orientale. Ecco i suoi libri, Un anno in Istria, una raffica all'improvviso, Mangiamoci l'Istria e dopo siamo andati via, pubblicato dalla NVGD di Gorizia, riguarda l'associazionismo degli esuli istriani, fiumani e dalmati dalla nascita 47 ad oggi. La giustizia secondo Maria, Maddalena gli occhi viola e occhi mediterranei. Ed ecco Rossana Napoletti, è una giornalista della Voce del Popolo, appartiene ad una famiglia di origini isolane, vive e lavora a Trieste e direttore organizzativo dell'Associazione Internazionale dell'Operetta di Trieste. Il libro che presenteremo oggi è un'opera di grandissima importanza perché contiene documenti originali e le memorie di Maria Pasquinelli, fondamentali per comprendere non solo le motivazioni del suo gesto, l'assassinio del generale De Winton, ma anche i risvolti di tanti fatti accaduti tra il 43 e il 45 in Dalmazia, in Istria e nel resto della Venezia Giulia. Per le sue conoscenze, per i suoi contatti, la Pasquinelli partecipò a tutto un intreccio di rapporti che anticiparono la guerra fredda in una zona che stava proprio per diventare il confine tra il blocco occidentale e quello orientale, dove appunto sarebbe calata la cosiddetta cortina di ferro. Gli esuli conoscono gli argomenti che stiamo per trattare oggi grazie a questo libro, li hanno vissuti sulla loro pelle, ma per permettere anche a voi ragazzi che avete aderito al progetto della regione e del comune di Gorizia di seguire con maggiore facilità i riferimenti a fatti, a personaggi storici che le due autrici sicuramente faranno, devo inquadrare il contesto in modo da delineare la situazione di queste zone veramente molto complessa alla fine della seconda guerra mondiale. Maria Pasquinelli era nata a Firenze nel 1913 da una famiglia di intellettuali toscani, la madre era insegnante, il papà era un giornalista ed è morta come vedete dopo aver compiuto cent'anni, pochi mesi dopo. Il 10 febbraio del 1947 a Parigi si firmò il trattato di pace con cui si cedevano l'Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia. Quello stesso giorno, come leggiamo da quotidiani dell'epoca, ci furono manifestazioni e proteste per le perdite territoriali, ritenute eccessive, visto l'armistizio del settembre del 43 e soprattutto la lotta delle decine di migliaia di italiani che avevano affiancato gli alleati da quel momento combattendo per la liberazione e in molti casi avevano perso la vita affrontando i nazisti e i fascisti entrando nella resistenza. Vediamo il titolo la fiera protesta dei romani contro l'ingiusto trattato di pace. Come possiamo vedere poi anche sull'unità, ecco, ho evidenziato in rosso il titolo Solenne protesta dei lavoratori a Roma, questo è dell'11 febbraio, il giorno dopo. Ecco, qui vediamo meglio. Dieci minuti di sospensione del lavoro in tutta Italia, solenne protesta dei lavoratori per le dure clausole del trattato, corone al milite ignoto, ignobili provocazioni turbano le manifestazioni di Roma, tentativo di irruzione nella delegazione iugoslava. Come vedete in tutta Italia furono osservati dieci minuti di astensione dal lavoro e a Roma, davanti alla tomba del milite ignoto, morto, lo ricordiamo, nella prima guerra mondiale per unire all'Italia la Venezia e Giulia, vediamo, grazie a queste foto della fondazione Gramsci, migliaia di esuli, dicevo, davanti alla tomba del milite ignoto, insieme a rappresentanti delle associazioni dei reduci di guerra, dei partigiani e tanti altri cittadini. Vedete, depongono fiori e si inginocchiano con le bandiere di Pola, Fiume, Zara, dell'Istria e della del Mazia, l'istate a lutto. Mentre accadevano queste cose a Roma, quella mattina a Pola, per protesta, Maria Pasquinelli commise un gesto terribile, un omicidio, che esprimeva la sua ribellione e tutta la disperazione sua e quella degli italiani dell'Istria, Fiume del Mazia, sparò tre colpi di pistola al brigadiere generale Robert William de Winton. Questo gesto le pesò sempre sulla coscienza, tanto che pregò sempre per il generale, quando lo poteva fare fece celebrare una messa ogni dieci del mese in suffragio e in seguito collocò una piccola croce sotto il monumento funebre del generale de Winton nel cimitero militare britannico di Adegliacco, frazione di Tavagnacco, si trova in provincia di Udine. Quelle mattine del 10 febbraio nella guarnigione britannica era stata schierata davanti alla sede del comando, aggiungo per chi conosce la città di Pola, si trova vicino a Portagemina. Il generale de Winton, che in quel momento era l'ufficiale più alto in grado del governo militare alleato, era stato invitato a passarla in rassegna in occasione del passaggio di poteri su Pola dagli alleati alla Repubblica di Jugoslavia. Chiarisco, la Pasquinelli non conosceva personalmente il generale, ma lo scelse solo in quanto rappresentante dei quattro grandi gli stati che avevano deciso il destino di queste terre. Aggiungo che tutti i servizi segreti, cioè l'OSNA della Jugoslavia, quegli servizi segreti italiani e quelli degli alleati, erano al corrente della possibilità di questo attentato e nei giorni precedenti avevano pedinato la Pasquinelli, ma non fu fatto niente per impedirlo e il generale non fu avvisato. Lei era sicurissima di morire, lo sentiremo dire dall'autrice, era convinta che le guardie le avrebbero subito uccise naturalmente, tra l'altro aveva anche indossato un cappotto rosso, figuriamoci, era ancora più evidente, ed era pronta alla morte per i suoi ideali e invece quando l'ufficiale cade a terra, perché lei mise a versaglio tutti e tre i proiettili, tutte rimasero a guardarla increduli e lei lo era altrettanto, di non morire intendo, e non tentò di uccidere, scusate di fuggire e venne arrestata. In tasca aveva un biglietto con poche righe per spiegare il suo gesto, ma ne parleranno meglio fra poco le due autrici. Le autorità jugoslave, temendo delle rivolte a Pola, imposero delle ordinanze repressive, coprifuoco dalle due del pomeriggio alle sette del mattino, i giornali non furono pubblicati per evitare che proponessero quella che ovviamente era la notizia del giorno, la radio locale non poté trasmettere, le scuole furono chiuse, evidentemente il tutto nel timore che il gesto della Pasquinelli fosse il segnale per una rivolta. Per capire il suo gesto dobbiamo cominciare a ricordare anche che, soprattutto che avvenne in un clima di terrore, di disperazione dei Polesani e degli altri italiani dell'Istria per le terribili violenze, le sparizioni di parenti, di conoscenti, deportati, infoibati, le intimidazioni continue, le minacce. La Pasquinelli si trovava a Pola quando, solo pochi mesi prima, vedete, in una domenica di agosto del 46, c'era stata la strage dei bagnanti, in maggioranza ragazzini, bambini, giovani, famiglie, sulla spiaggia di Vergarolla. Erano state fatte esplodere delle mine che avevano causato la morte di quasi un centinaio di persone, in parte erano polverizzate, tra gli altri quelli che per me sono un po' il simbolo della strage e cioè, li vedete, entrambi i bambini di Geppino Micheletti, il primario chirurgo e direttore sanitario dell'ospedale Santorio di Pola. Renzo aveva quattro anni e Carlo aveva nove anni ed erano stati accompagnati al mare dal fratello di Geppino, Alberto, e dalla moglie, Caterina, anche loro morirono nello scoppio, e il dottore, il medico Micheletti, pur consapevole della morte dei figli e dei suoi parenti, è rimasto lì ad operare per altre 48 ore, finché non ce l'ha fatta più, fino all'estremo, allo stremo delle forze, curando decine e decine di feriti. Una commissione militare britannica che aveva condotto l'inchiesta sulla strage concluse che non si era trattato di un incidente come invece sostenevano gli jugoslavi, perché le mine erano prive di innesco, ma su questo oggi non abbiamo tempo per soffermarci. Una tragedia terribile, riproposta, come sapete, anche dal bravo Simone Cristicchi nel suo spettacolo magazzino 18. Ma abbiamo bisogno di altri elementi per capire il contesto in cui viveva la Pasquinelli e in cui vivevano gli striani, fiumani e dalmati. La Pasquinelli era un insegnante, era una maestra elementare che poi si era laureata in pedagogia e aveva assistito con orrore anche ad altre stragi, come quelle compiute contro i suoi colleghi insegnanti e altri civili italiani a Spalato. Lo dico per i ragazzi, i ragazzi vedete Spalato individuata nel cerchio più in basso in Dalmazia e poi anche in Istria e si era informata riguardo alle vicende degli infoibati, aveva inviato informazioni, denunce al governo italiano, ma anche agli alleati, prendendo contatti poi con i servizi segreti americani e britannici, ma anche con la Decima Mass e con le Brigate Osoppo, formate da partigiani non comunisti che dalla fine del 43 stavano combattendo sul confine orientale. 18 di loro vennero uccisi dalle Brigate Garibaldi a Porzius. A questo proposito sappiamo che l'8 settembre del 43 l'Italia aveva firmato l'armistizio. Vediamo qui i titoli di alcuni giornali dell'epoca. Leggiamo sulla stampa. La guerra è finita, ma la guerra purtroppo non era finita, anzi, anzi, iniziava per l'Italia la fase peggiore. Infatti il nostro paese subì l'invasione dei tedeschi, innanzitutto, che occuparono gran parte dell'Italia compiendo terribili violenze, rappresaglie, rastrellamenti, fucilazioni, comuni, deportazioni, stragi di centinaia di civili innocenti. I tedeschi dall'ottobre del 43 de facto scorporarono le province di Udine, Trieste e Gorizia, tutta l'Istria e fiume, cioè tutta l'intera Venezia Giulia e il Friuli, e lo onnessero alla Germania, denominandolo litorale adriatico. Ecco una cartina dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, che ci mostra appunto il litorale, una bella cartina, la zona delle operazioni tra il 43 e il 45. Comprendeva, come vedete, sia il Friuli che la Venezia Giulia, cioè come sapete la Venezia Giulia, lo ricordiamo, non si sa mai, sarebbe da Gorizia, Trieste, le terre al di là da Lisonzo fino all'Istria. Aggiungo poi che in Carnia, nell'alto Friuli, qua non ve l'ho fatto vedere, vennero fatti effluire anche i cosacchi, i cosacchi che collaborarono con i nazisti contro i partigiani dalla fine del 44 alla primavera del 45. Però, però, quello che per i tedeschi era il litorale adriatico, per gli sloveni era già parte della Repubblica Slovena e quindi della Jugoslavia. Perché? Prima che i tedeschi nel 43 assumessero effettivamente il controllo del territorio, gli sloveni iniziarono subito ad occuparlo, a partire dalla Valle dell'Isonzo, per poi proseguire nelle valli del Natisone, verso Cividale e Faedis, lo nomino perché in quella zona lì vicino c'è Porzius, dove però erano già costituite delle formazioni di partigiani italiani, come le Brigate Garibaldi, ma anche la Brigata Osoppo. Una settimana circa dopo l'armistizio, cioè il 16 settembre del 1943, il fronte di liberazione del popolo sloveno proclamò l'annessione di tutte le terre ad est dell'Isonzo, a partire da Gorizia a Trieste e fin giù tutta l'Istria. L'esercito jugoslavo chiese che tutte le forze partigiani che operavano in questo territorio, cioè nel territorio che loro si erano annessi, entrassero a far parte dell'esercito popolare della Jugoslavia, per combattere in modo più proficuo contro i nazi fascisti. Quindi che i partigiani italiani dovessero prendere ordine dagli jugoslavi e questo venne fatto in parte perché per ordine del Partito Comunista guidato da Palmiro Togliati, i partigiani comunisti delle Brigate Garibaldi accettarono. Tutti coloro che non avrebbero appoggiato gli jugoslavi automaticamente sarebbero stati considerati nemici del popolo. Il progetto che avevano gli jugoslavi era cacciare i nazi fascisti e poi annettere anche le terre friulane fino al tagliamento alla Jugoslavia. Quindi un'area molto vasta che comprendeva anche gran parte, lo vedete, della provincia di Udine. Vi ho segnalato, come vedete, i fiumi, Isonzo, Natisone e il fiume Tagliamento. Fino al Tagliamento dovevano appunto annettersi. Dobbiamo chiarire che nella parte più orientale del Friuli, lo vedete, nella zona chiamata Slavia Friulana o anche Slavia Veneta, vivevano effettivamente comunità di sloveni che si erano insediati qui dopo la fine dell'impero romano all'epoca dei Longobardi, a partire dal VII secolo. In epoca romana, ho messo una minuscola cartina, non mi soffermo, ma comunque come si ricorda questa piccolissima cartina, queste zone facevano parte della decima regione dell'impero, Venezia ed Istria, con capitale Aquileia e successivamente, vedete sotto, furono dominio della Repubblica di Venezia. Ora, in questa zona, nel 1943, nella nostra regione, operavano tre tipi di formazioni partigiane. Gli sloveni del nono corpus dell'esercito jugoslavo, le brigate Garibaldi Natisone, formate nella quasi totalità da comunisti e le brigate Osoppo. Qui vedete il comando della divisione Garibaldi Natisone, i cui componenti, una parte dei componenti, si trovano a Zakrish, in Slovenia, insieme ad alcuni ufficiali sovietici, nel gennaio del 45, ricordiamoci in che periodo, un mese circa prima della strage, dell'Eccidio di Porzius. Il primo a sinistra è il commissario politico Giovanni Padoan, detto Vanni. Poi, dicevo, c'erano le brigate Osoppo Friuli, che si distinguevano per i fazzoletti verdi, fondate presso la sede del seminario arcivescovile di Udine nel dicembre del 43, su iniziativa di volontari, anche di sacerdoti, e i componenti erano di ispirazione cattolica, ma anche laica, liberale, socialista, e c'erano anche degli azionisti fra di loro. La tragedia di Porzius, nonostante siano trascorsi quasi 80 anni, 80 anni, e siano stati svolti diversi processi per accertare sia i responsabili che i mandanti, continua ancora oggi a suscitare polemiche, interpretazioni diverse, è ancora fonte di grosse contrapposizioni, anche per motivi ideologici, naturalmente. In estrema sintesi, non ci soffermiamo su questo troppo, ma in estrema sintesi, partigiani sloveni chiedono che i reparti italiani del Friuli orientale, come abbiamo visto, abbiamo sentito, passino alle loro dipendenze. La brigata Garibaldi Natisone accetta, su ordine di togliati. Le brigate Osoppo rifiutano e per questo avviene l'eccidio di Porzius, nelle giornate tra il 7 e il 18 febbraio del 45, nella zona tra Atimis Faedis. Ora vi faccio vedere meglio dove si trovano questi luoghi. Ecco, grazie a Google Maps. Ecco, era una zona montuosa, dove si trova il paesino di Porzius. Tra Atimis, dicevo, e Faedis, ma ecco, in basso vedete Cividale, in basso a destra, tanto per capirci, un po' più in alto San Giovanni Natisone e in rosso la zona delle Malghe, dove è avvenuto l'eccidio. Ecco, ancora qualche immagine della Malga. A Porzius furono uccisi il comandante della brigata Osoppo, Francesco De Gregori, detto Bolla, aveva 34 anni ed era capitano degli Alpini, zio del cantautore Francesco De Gregori, medaglia d'oro e il valor militare. E tra i più giovani c'era Guido Pasolini, Hermes, uno studente di 19 anni, fratello minore dello scrittore Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini che in una lettera del 21 agosto del 45, una lettera all'amico poeta Luciano Serra, scrisse così. Essendo stato richiesto a questi giovani, veramente eroici, di militare nelle file garibaldino-slave, essi si sono rifiutati, dicendo di voler combattere per l'Italia e la libertà, non per Tito e il comunismo. Così sono stati ammazzati tutti barbaramente. Questa è un'immagine dei funerali tenuti a Cividale, nel Duomo, il 21 giugno del 1945. La Pasquinelli, come vi dicevo, aveva la conoscenza di questi fatti e aveva raccolto informazioni, scritto centinaia e centinaia di pagine di appunti e aveva conservato giornali dell'epoca che riportavano fin dal 1943 notizie sulle stragi che stavano avvenendo. Giornali come questo, vedete, fin dai primi mesi in Italia si sapeva quello che stava accadendo. Per esempio qui leggiamo dei ritrovamenti della foiba di Surani, una località vicino ad Antignana, vedete indicata nel cerchio rosso. Nota perché il comandante dei vigili del fuoco di Pola, incaricato delle ricerche, cioè Arzaric, tra gli altri vi recuperò la salma di Norma Cossetto. Norma Cossetto, una ragazza di 24 anni, studentessa universitaria, che tra gli 11 e 19 anni era vissuta proprio qui a Gorizia da noi perché si era trasferita per frequentare il ginnasio e il liceo classico, poi l'università invece a Padua. Quando l'ho frequentato io però al liceo classico, negli anni 70, nessun di noi ragazzi sapeva niente di lei né della sua terribile morte. Fu ripetutamente serviziata, violentata e gettata nella foiba. Norma è diventata il simbolo della prima ondata di violenza in Istria, quella del 1943, che colpì esponenti e collaboratori del regime fascista, ma anche italiani con buona posizione economica e sociale e i loro familiari. Quindi ci furono motivazioni politiche e sociali ma anche vendette personali. Questa immagine per ricordarvi che la sua storia è stata raccontata anche nel film Red Land, Terra rossa. Nello stesso articolo viene citata, veniva citata anche la foiba di Terli. Terli è un paesino di circa 3.000 abitanti che si trova tra Pola e Albona. È praticamente l'unica foiba dove sono state recuperate e riconosciute tutte le salme e in questo caso 26 persone, tutte uccise ai primi di ottobre del 43 e ritrovate in questo caso i primi di novembre. C'erano anche dei noti antifascisti, la cui morte sembra dovuta a vendette personali. Erano persone comuni, manovali, agricoltori, minatori, commercianti e tra loro anche tre ragazze, le tre sorelle Radecchi. Fosca aveva 17 anni, Caterina 19 e Albina 21 e aspettava un bambino e poi la signora Amalia Ardossi. La signora Amalia aveva 45 anni, non aveva fatto niente naturalmente ma non aveva voluto lasciare suo marito e per questo lo aveva seguito volontariamente ed era stata gettata nella foiba, così come l'hanno trovata, legata al marito all'altezza del gomito con filo di ferro. Osservate poi questo puntino scuro che individua il paesino di Carnizza. Ecco a Carnizza i partigiani portarono via da casa di notte anche Giacomo Zuccon, il nonno materno del dirigente della Fiat, amministratore delegato di Fiat Chrysler, recentemente scomparso. Il nonno fu portato via con i polsi legati con il filo di ferro, lo videro, come tra l'altro ha testimoniato anche sua nuora, ultra novantenne che è stata intervistata pochi anni fa in Istria dove ancora abita. Nella foto vediamo Marchionne quando nel 2012 partecipò alla cerimonia in occasione del giorno da ricordo a Torino portando i saluti della mamma Maria e esule da Pola appunto a quel tempo ancora vivente. Maria era fuggita con la sorella Anna e la propria madre e quando era stato in foibatto appunto Giacomo Zuccon che all'epoca aveva 46 anni. Era un commerciante che aveva un piccolo negozietto di alimentari a Carnizza, avete visto dove si trova il paesino appunto, si trova a 20 chilometri da Pola in negozio della famiglia Zuccon si trova a poche decine di metri dalla casa dei cugini di mio padre Mario che loro avevano un'osteria. Mio padre all'epoca dei fatti era un ragazzino, aveva 13 anni, è nato nel 1930 e viveva con la famiglia Pola. Da Pola se n'è andato a esule nel 1947 ed è venuto appunto a Gorizia. A Carnizza c'era la stazione dei Carabinieri comandata da Concezio Marchionne che si innamorò di Maria Zuccon e lei dopo poco fuggì esule dall'Istria con la mamma vi dicevo e la sorella, sposò Concezio e con lui si trasferì a Chieti dove è nato appunto Sergio e più tardi in Canada. Abbiamo nominato il maresciallo Arzaric, Arnaldo Arzaric, che fu lui a ritrovare le salme, eccolo qui nel mezzo, comandante dei vigili del fuoco di Pola che scendeva con la sua squadra nelle foibe e lui dall'ottobre del 43 al febbraio 45 riesumò 250 salme di cui 204 identificate. Con la sua squadra lavorò per un periodo il giovane Giuseppe Comand, originario di La Tisana, recentemente scomparso e all'epoca era vigile del fuoco ausiliario ed è l'ultimo testimone del recupero dei corpi degli italiani foibati. Nel 2018, quando aveva già 98 anni, ha ricevuto l'onorificenza di commendatore dal presidente della Repubblica Mattarella. Ecco, abbiamo accumulato abbastanza conoscenze particolari. Tutte queste cose le conosceva bene Maria Pasquinelli, aveva parlato con parenti, testimoni, aveva raccolto testimonianze dirette, aveva scritto tutto per non dimenticarsi nessun particolare e ha conservato tutto in un baule che poi aveva consegnato a Monsignor Santin, vescovo di Trieste, suo confidente padre spirituale. Monsignor Santin era nato a Rovigno, poi aveva studiato teologia qui a Gorizia nel seminario, era venuto nel 1914. Nel 33 divenne vescovo di Fiume, nel 38 arcivescovo di Trieste e Capodistri e poi solo di Trieste rimase fino al 75. Fu una persona di grande carisma, un uomo autorevole, determinato, un punto di riferimento per la sua gente, un protagonista della storia di Trieste in momenti veramente drammatici. Nel 38 aveva affrontato Mussolini sul sagrato della chiesa di San Giusto per protestare contro le leggi razziali e in seguito opererò la causa degli ebrei perseguitati ed intervenne anche a difesa della popolazione civile slovena che era stata internata nei campi di concentramento italiani dopo il 1941, cioè durante l'occupazione italiana di una parte della Jugoslavia. Chiariremo ora di quale parte si trattava e quindi è necessario un flashback. La Jugoslavia del 1941 era, come vedete, un paese con una storia di poco più di vent'anni. Vedete, era stato creato nel 1918 come regno dei serbi, croati e sloveni, con l'annessione alla Serbia, di popoli diversi per storia, cultura, lingua, religione, tra i quali nacquero immediatamente, proprio fin dai primi mesi, dicevo, nacquero forti contrasti con richieste di autonomia, ma cose anche molto più gravi. Per esempio ci fu l'assassinio di due deputati montenegrini e di due croati durante una seduta dell'Assemblea nazionale e poi nascita di formazioni terroristiche, per esempio quella della Macedonia, una Macedonia che mirava all'annessione alla Bulgaria. Vediamo rapidamente il paese, il regno, aveva 12 milioni di abitanti, era stato costituito unendo due regni, la Serbia e il Montenegro, a cui poi vennero annessi la Bosnia e la Tegovina, che in precedenza erano sotto l'impero ostrungarico, la Slovenia, la Croazia e la Dalmazia che erano da secoli sotto il regno degli Asburgo ancora, la Slavonia che era ungherese e poi dei territori che erano stati tolti alla Bulgaria. La monarchia serba di fronte a questi contrasti interni intendo al paese rispose con la repressione e si giunse a una situazione addirittura di rischio di guerra civile. I parlamentari lasciarono il parlamento. Il regno dei serbi, croati e sloveni perciò fu trasformato in regno di Jugoslavia, dallo stesso re nel 1929, cioè il regno degli Slavi del Sud, cancellando usi e costumi diversi, imponendo un'unica lingua per far dimenticare ai popoli delle varie regioni le proprie origini diverse. Nel 1934 però il re Alessandro fu assassinato, fu ucciso in un attentato organizzato dalle organizzazioni di macedoni e croati. Ora torniamo noi. Quando nel 1941 venne invasa dalla Germania, dall'Italia e dall'Ungheria, la Jugoslavia come capite era un paese con molti problemi di stabilità. In Jugoslavia in quel momento, essendo morto il re precedente, era sul trono un reggente Paolo, re Paolo, che era cugino, era cugino di Alessandro e aveva ceduto alle pressioni della Germania e aveva firmato, vedete, in marzo un patto con le forze naziste. Aveva avuto la promessa di ottenere dei territori della Macedonia in cambio e il porto di Salonico. Ma questo re era stato destituito da un colpo di stato, di un gruppo di ufficiali serbi che erano contrari a questa intesa e al suo posto era stato posto, scusate, il gioco di parole, era stato collocato il giovane Pietro, erede di Alessandro. Aveva 18 anni questo ragazzo. La Germania, che stava per iniziare, come sappiamo, l'operazione Barbarossa, cioè l'invasione della Russia, dovete posticiparla di oltre un mese e così attaccò e occupò la Jugoslavia insieme all'Italia e l'Ungheria e la Jugoslavia fu suddivisa tra Germania, Italia, Ungheria e Bulgaria. È un vero e proprio break up della Jugoslavia. La cartina ci aiuta a capire la suddivisione. Innanzitutto balza gli occhi per il colore il regno di Croazia, un regno fantoccio di stampo collaborazionista come i nazisti avevano già fatto in tanti altri paesi. Poi i territori della Germania, annessi alla Germania, in blu. All'Italia furono date la provincia di Ljubljana e alcune zone della Dalmazia e del Montenegro, che qui vediamo in verde, ma mancano alcune zone. Perciò, ecco, passiamo ora a questa cartina. Eh sì, lo so che ha dei colori molto meno brillanti, ma è più completa. Qui potete vedere, anche da soli, tutti i territori con le varie zone annesse alla Germania, anche all'Ungheria, alla Bulgaria, oltre che all'Italia. Allora, dopo l'invasione, a questo punto si scatenò in Jugoslavia una guerra terribile, con stragi e massacri da parte di tutti. L'uso della violenza in alcune occasioni, possiamo dire, che superò ogni limite. Gli eserciti e tutti i gruppi combattenti commisero atti di grandi crudeltà, con episodi veramente efferati. Tutto questo provocò centinaia di migliaia di vittime civili, perché da una parte gli Jugoslavi combattevano contro chi aveva occupato il loro paese, cioè nazisti e fascisti, ma dall'altra combattevano fra di loro in una guerra molto crudele, una guerra civile, che vide opporsi i collaborazionisti ai comunisti e ai sostenitori della monarchia. Nazisti e fascisti devastarono il territorio, compiendo spesso rappresaglie contro la popolazione civile dei villaggi, perché appoggiavano i partigiani, fucilando i partigiani, ma va ricordato, e anche incendiando i villaggi che li ospitavano. Ma va anche ricordato, è un fatto ben noto, che in molte occasioni l'esercito italiano al contrario protesse i civili dalle violenze dei gruppi di combattenti jugoslavi che a loro volta attaccavano i villaggi e ne uccidevano gli abitanti. È stato riconosciuto che gli italiani in molte località hanno cercato di fare da mediatori tra le fazioni in lotta e in più occasioni hanno protetto serbi ortodossi ed ebrei, lo ricorda anche Gianni Oliva, e cercando di limitare i massacri da parte degli ustasha croati. In Dalmazia poi è risaputo, ci sono i documenti conservati presso l'archivio storico dello Stato Maggiore del nostro esercito, ma ci sono soprattutto le testimonianze dello storico israeliano Menachem Shelach, che è attualmente professore di storie contemporanee a Gerusalemme, che parla di debito di gratitudine, perché il nostro esercito ha protetto gli ebrei salvandone, salvando dalla morte migliaia di loro, e i documenti sono ancora conservati, questo è successo in Dalmazia, e i documenti sono ancora conservati appunto a disposizione. Ma ricordiamo anche che il testo che abbiamo presentato noi qui a Gorizia tre anni fa, quando era ancora vivo Gino Bambara, c'è il Gidov, il salvataggio degli ebrei in Jugoslavia e Dalmazia, e l'intervento della seconda armata, in cui lui combatteva, 1941-1943. Bambara era nato a Zara nel 1922 ed è morto a Brescia nel 2018, si è laureato dopo la guerra in storia e filosofia ed è divenuto prima insegnante, poi preside di un liceo scientifico di Brescia, e anche consigliere comunale del Partito Comunista Italiano. Ha partecipato alla seconda guerra mondiale, come intuita, sul fronte jugoslavo, e dopo l'armistizio aveva solo 21 anni, ha combattuto nella resistenza antinazista. Gli ebrei furono in parte deportati sull'isola di Arbe, con il pretesto di doverli poi inviare nei campi di concentramento tedeschi, ma non lo furono, almeno finché gli italiani erano in questa zona, ma in questo modo furono salvati, almeno per quel periodo di tempo. Tornando a Monsignor Santin, abbiamo detto che ci fu la deportazione di migliaia di civili, di intere famiglie, per ridurre l'appoggio ai partigiani, e le famiglie vennero inviate e mandate nei campi di concentramento come quelli di Gonars, Visco, Arbe, Rab, Monigo, dove purtroppo molti morirono a causa, c'era una alta mortalità, a causa della fame, del freddo e delle epidemie. Ed è appunto a loro favore che intervenne Monsignor Santin con le autorità fasciste. Tornando sempre a lui, dicevo, nel 1945 lui trattò la resa del presidio tedesco e scongiurò la distruzione di Trieste, ma nel 1947 però subì una violenza, violenta aggressione, fu pestato a sangue a Capodistria, dove si era recato in occasione della festa di San Nazario. La polizia intervenne giusto in tempo per scongiurare la sua uccisione. Maria Pasquinelli, che aveva appunto relazioni scritte con Monsignor Santin, torniamo a Maria Pasquinelli, qui la vediamo da giovane con la sorella Benedetta. Maria Pasquinelli ha trascorso 17 anni in carcere. Prima era stata condannata a morte, ma gli inglesi decisero autonomamente di comutare la pena nell'ergastolo. Dopo le grandi manifestazioni di solidarietà che erano avute in tutta Italia, a Napoli, per esempio, furono raccolte addirittura 195.000 firme che la Lega Nazionale di Trieste consegnò, raccolte in sei volumi, con la scritta Napoli domanda la grazia per Maria Pasquinelli. Quindi gli inglesi pensarono che l'esecuzione avrebbe rischiato di innescare un moto di rivolta e di avere gravi conseguenze. Lei, dicevo, scontò 17 anni, durante i quali ricevette la visita del fratello del generale De Winton, che era un sacerdote, che le portò la testimonianza che la vedova del generale, alla vedova dispiaceva, rincresceva, con queste parole non è stato riportato, rincresceva che Maria rimanesse in carcere. Ebbe sempre contatti, ripeto, con la curia arcivescovile di Trieste e con Monsignor Santin e dalle sue lettere si comprende che voleva scontare la sua pena, proprio come testimonianza di coerenza e di amore per l'Italia, ma nel 1964 fu scarcerata per poter assistere la sorella Benedetta gravemente malata. Solo per questa ragione la Pasquinelli accettò la grazia e andò ad abitare a Bergamo dove è morta nel luglio del 2013 dopo aver compiuto 100 anni di vita. In precedenza aveva scritto diverse lettere di rifiuto della grazia, una per esempio nel 1953 l'aveva scritta la regina di Inghietterra, Elisabetta, con cui chiedeva a sua maestà di non dar seguito alle richieste che in quel periodo erano state presentate per la propria scarcerazione, per la sua scarcerazione. Ed ecco il testo, l'ho sintetizzato, ho tagliato qualche frase, a sua maestà la regina Elisabetta II ad Inghietterra. Maestà, sono l'italiana che il 10 febbraio 1947, giorno della firma del trattato di Parigi, colpì mortalmente a Pola il comandante inglese di quella piazzaforte, il rappresentante dei quattro grandi. Le faccio presente, affinché ne sia tenuto conto oggi e nel futuro, che io non voglio dall'Inghietterra grazie, né provvedimenti di alcun genere diretti al cambiamento della mia condanna. La tragica sorte imposta col sopraccitato trattato a Zara, Fiume e alla Venezia Giulia italianissime, eroica difesa contro l'imperialismo orientale, persiste. Né io, nonostante lo strazio per la vittima che in atomi nel cuore col pensiero dell'attentato mi accompagnerà alla tomba, sono di fronte agli uomini pentita del mio atto. Maestà, sinceramente le auguro un lungo e sereno regno sui popoli liberi che la amano. Come vedete questo documento è conservato nell'archivio storico diocesano di Bergamo, nel cosiddetto fondo Maria Pasquinelli. Eppure questa donna, questa donna quindi una volta uscita a Bergamo, condusse una vita molto ritirata, voleva essere dimenticata, non parlava di questi argomenti praticamente con nessuno. Eppure questa donna, tanto schiva, accettò di conoscere Rosanna che con la sua sensibilità e la sua umanità, che noi ben conosciamo, riuscì ad avvicinarla e a convincerla a farsi intervistare. E alla fine, soprattutto, l'autorizzata ad accedere a questo baule pieno di documenti lasciato in custodia alla Curia di Trieste. E qui comincia la nostra storia di oggi. Ora passo la parola, ben volentieri, a Rosanna, che ci illustrerà i motivi per cui ha composto questo testo e quali novità presenta, rispetto, importanti novità, rispetto all'altro testo. Sulla copertina del libro Tutto ciò che vidi appaiono due date, 1943-1945, ed è questo il periodo che io e Rossana Poletti, vi racconteremo questa sera. Un periodo molto difficile per tutta la nostra regione, per tutto il territorio di insediamento storico della nostra comunità. Un periodo di guerra, ma anche un periodo di contrapposizioni di stampo nazionalistico che sono costate la vita a tantissima gente. Quindi un periodo veramente molto difficile. Perché Maria Pasquinelli? Che cosa c'entra questa donna, questa maestra bergamasca in tutta questa storia? Maria Pasquinelli, nonostante fosse nata a Bergamo, avesse lavorato, nata a Firenze, cresciuta a Bergamo e avesse lavorato alla Bicocca a Milano, a un certo punto si appassiona di questa nostra storia, perché lei si sentiva profondamente italiana. Quindi andrà prima a Spallato e c'è una vicenda incredibile, quella di Spallato. E poi si sposterà a Trieste e qua scoprirà che nel 1943, mentre lei a Spallato subiva vessazioni, subiva delle tragedie incredibili, anche in Istria succedevano le stesse cose. Quindi fuori momenti, uccisioni. E lei si appassiona talmente a questa storia che deciderà di andare a intagare sul territorio. Per fare che cosa? Per fare in modo che in Istria intervengano le forze italiane del governo italiano del Sud e delle forze partigiane perché mantengano l'Istria all'Italia. Cosa che non sarà possibile, ma lei si impegnerà fino ad arrivare al momento estremo di uccidere il generale De Winton. Ma tutto parte da questa esperienza di Spallato che magari Rossana ci può raccontare. Spallato si trova rifugiata dopo un'esperienza alquanto catastrofica in Libia. Lei vuole andare a combattere sul fronte, vuole far vedere ai soldati che sono stremati dalle guerre, dalle lunghe guerre, vuole far vedere che bisogna aver coraggio, che bisogna riprendersi in mano la situazione, si rasa i capelli, si veste da soldato e va in prima linea. Questo ovviamente in Africa con le truppe italiane. Viene ovviamente immediatamente scoperta, rimandata in Italia e si rifugia, si rifugia si fa per dire, trova lavoro a Spallato dove insegna l'italiano nella scuola italiana. Ma non solo, lei a Spallato dà anche una mano nelle carceri, assiste i ragazzi, molti sono di lingua croata. Cerca di aiutarli, più che insegnare l'italiano, cerca di aiutarli, fa da collegamento tra questi ragazzi e le famiglie che niente sanno di loro. Insomma la situazione non è delle più facili, siamo comunque in guerra. E arriva l'8 settembre. L'8 settembre è un momento drammatico perché gli italiani ovviamente si trovano in una situazione, come dappertutto nelle altre parti anche dell'Istria orientale, si trovano a vedere l'arrivo di questi soldati, di questi partigiani titini. Anche lei e il suo gruppo di insegnanti, il suo preside, il direttore scolastico, tutti quanti finiscono nella stessa situazione. Si rifugiano nella scuola, viene loro confiscato tra l'altro i soldi che erano depositati in banca, pronti per essere consegnati, i titini li requisiscono, quindi si trovano a vivere in questa situazione, rifugiati dentro questa scuola, senza soldi, senza mezzi, una situazione molto difficile. Non solo, lei assiste a situazioni terribili perché uno alla volta i suoi colleghi vengono portati via, il direttore e poi una delle sue colleghe peraltro viene stuprata a notte e tempo. Anche lei subisce un tentativo di stupro che rappresenta, raccontato con la sua stessa pena, con la sua stessa scrittura, risulta anche così ironico alla lettura perché questo soldato, questo partigiano le dice vuoi tu fare un poco amore con me? Lei dice no, assolutamente no. Lei ovviamente ha le idee ben chiare e sa che deve resistere piuttosto a morire. Però succedono tutti questi fatti, riusciranno, alcuni degli insegnanti verranno trucidati, tra cui Solian, il direttore, il proiettore scolastico, Lungibull, un altro suo collega, insomma ci sarà una lunga sfilza di morti. Quando poi tra l'altro i titini dovranno ritirarsi per l'arrivo dei tedeschi e l'insediamento degli Ustas a governo della città, di fatto lei farà di tutto perché si possano recuperare le salme gettate nelle fosse comuni, in tre fosse comuni dai partigiani. Sarà una, bisogna leggerlo perché è un'odissea, riuscirà nell'intento, lei e altri colleghi scampati ai massacri scapperanno, si imbarcheranno su una nave diretta a Tirieste, una nave militare, però verranno bombardati nel tragitto e faranno rientro a Spalato. Una vita, una situazione rocambolesca, quella di Spalato, che dà il senso di quello che sta succedendo e questa è un'esperienza che lei vive in prima persona, mentre successivamente, e do la parola a Rosanna perché lo racconti, lei invece raccoglie le testimonianze. Questa di Spalato è una sua testimonianza diretta perché lei l'ha vissuta, la racconta ed è impressionante da vedere come lei riesce a mettere sulla carta queste vicende terribili che lei vive in prima persona. C'è in questa storia la vicenda di un bavule. Nel 2007 io incontrai la Pasquinella a Bergamo, era uscita di galera dopo 17 anni. Prima le avevano commutato la pena di morte e poi tramutata in ergastolo perché il 10 febbraio 1947 a Pola lei uccide il generale De Winton. Non aveva mai concesso un'intervista, sono andata a trovarla, abbiamo parlato, volevo fare una pagina del giornale e in effetti poi è nato questo libro, il primo libro La Giustizia secondo Maria. In quell'occasione, nell'occasione in cui io le avevo portato le bozze del libro, lei aveva letto con una pazienza certosina e anche con una verve non da poco perché era una donna che aveva un carattere così volitivo, molto forte e in quell'occasione lei scrive di suo pugno una lettera al Vescovado di Trieste in cui chiede che mi vengano dati i materiali del processo. Infatti nel primo libro io rimango alla ringa del suo avvocato Giannini, la ringa che era stata pubblicata in Cogliani del Bianco Editore. Passano gli anni, questi documenti non arrivano mai, il libro esce, ce ne dimentichiamo quasi, un giorno dal Vescovado mi chiamano, mi dice che c'è del materiale per me. Vado ed è una cassa, una cassa di legno molto grossa che il Vescovo Monsignor Santin aveva messo in un cavò, in una banca di Trieste negli anni 50 e mai più toccata da nessuno. Ogni documento è firmato dai notai, ci sono i tre notai che firmano, ci sono nomi e cognomi per cui si sa tutto. Noi portiamo a casa questa cassa, come si comincia a vedere il contenuto al suo interno e dopo parecchi anni di studio abbiamo fatto ricopiare da una persona noi molto vicina che si è messa a disposizione per ricopiare tutto il materiale, la signora Ucci, Delise e lei ci ha aiutato tantissimo perché altrimenti non ne saremmo mai venute fuori perché hanno 8 tonnellate di materiale e finalmente riusciamo a iniziare a studiare questo materiale che avevamo e troviamo le relazioni che Maria Pasquinelli, come diceva prima Rossana, ha fatto nel 1945 andando in Istria con un lascia passare di Junio Valerio Borghese, è andata in Istria, ha raccolto tutte le testimonianze sulla vicenda delle foibe e quindi lei tutte queste cose le ha raccolte, queste relazioni le ha scritte da perfetta giornalista cronista perché scrive in una maniera incredibile, ci ha lasciato tutto questo materiale, noi l'abbiamo messo insieme ed è venuto fuori questo racconto di tutto ciò che vidi gli abbiamo dato proprio questo titolo perché è tutto ciò che lei vide in quel momento sia a Spallato ma poi vide in Istria nei racconti, nelle testimonianze di queste persone molte dei quali avevano assistito soprattutto alla cattura di alcune persone, all'arrivo in casa di partigiani che si portavano via i genitori lasciando il bambino in mezzo a letto, mai più tornati e cose del genere quindi tutta questa cosa noi l'abbiamo studiata, abbiamo cercato di sfrondare naturalmente ed è nato questo libro, un libro che si ferma naturalmente al 45, c'è ancora tanto da raccontare perché poi i fatti di The Winton che ho raccontato nel primo libro quando ho fatto l'intervista che era un po' un'intervista che parlava di tutto il periodo quindi sin dalla sua venuta in Istria ma poi anche tutto il periodo in cui lui era stata a Pola e lavorava per il centro profughi e poi l'effetto dell'uccisione, il processo e tutto il resto e invece noi adesso stiamo iniziando a lavorare su altro materiale prezioso, importantissimo perché attraverso la storia della Pasquinelli noi siamo riusciti a descrivere una storia di questa regione che non dico che fosse sconosciuta perché se ne è scritto tantissimo però ci sono certi risvolti che ci hanno colpito moltissimo e che finora erano stati poco esplorati Tosanna vuoi dire tu? Beh, una delle cose che ci sono veramente, ci hanno colpito proprio quando abbiamo letto tutti i dati, tutti i racconti, tutte le testimonianze che la Pasquinelli aveva scritto ed è stata la cosa forse che ci ha più, tra virgolette, illuminate rispetto al personaggio e rispetto alle azioni che lei poi ha compiuto successivamente appunto a cui faceva riferimento Rosanna, tra cui l'uccisione del generale De Winton, è stato proprio il racconto di moltissimi testimoni di quell'8 settembre, quando arrivano i partigiani di Tito che sono mal in arnese, c'è la descrizione di tutti i testimoni dei fatti che la Pasquinelli riporta, sono descrizioni che riportano questi partigiani che arrivano senza armi, alla spicciolata, morti di fame quasi, straccioni, perché poi alla fine si fanno dare le divise dei militari italiani a cui tolgono le mostrine e usano queste divise come se ci mettono una corcarda rossa e diventano le divise dei partigiani. E cosa fanno alcuni reparti dell'esercito che hanno sede in quel momento in Istria? Molti degli esponenti più in vista di questi paesi chiedono, di queste cittadine istriane, chiedono ai militari di consegnare loro le armi per potersi difendere da questa avanzata che ovviamente risulta minacciosa e preoccupa moltissimo la gente dei paesi, dei villaggi, perché sanno, sentono che non sarà una cosa semplice, che comincerà veramente la guerra in Istria, perché fino a quel momento poco si era sentita, un po' una testimonianza di tutti che dicono che fino all'ottobre del settembre del 43 poco si era sentita in Istria e la guerra, che comincia veramente con quella data e molti militari dell'esercito rifiutano di dare le armi ai cittadini italiani e le consegnano invece ai partigiani di Tito, che le useranno contro gli stessi cittadini italiani, non solo, ma faranno prigionieri molti di questi militari dell'esercito italiano che abbandonano armi, abbandonano la divisa, cercano di darsi alla fuga e in realtà vengono catturati e molte volte passati per le armi o gettati insieme agli altri nelle foibe, comunque molto spesso non la faranno franca, diciamo così, per usare un'espressione poco felice. ed è questa la cosa che ci ha forse impressionato in una prima fase, che ci ha fatto capire come deve essersi sentita questa donna, che comunque per quanto si dica cosa c'entra la Pasquinelli con l'Istria, che la maggior parte della sua vita attiva l'ha vissuta nelle nostre terre, perché poi appunto dopo il 47 lei è stata in carcere e quindi poco della vita successiva ha vissuto se non appunto reclusa insieme ad altre donne. Lei credo sia stata profondamente colpita da questo fatto che l'esercito italiano ha abbandonato il popolo istriano, l'ha abbandonato nel momento del bisogno ed è una cosa che ci ha colpito profondamente anche a noi, che non avevamo contezza di una cosa del genere, non avevamo informazioni di questa portata ed è il primo, secondo me e anche secondo Rosanna ne abbiamo discusso a lungo su questa cosa prima di riportarla sul libro, è il primo solco che si scava nel cuore della Pasquinelli, è il primo solco dei tanti solchi che lei riceverà in fondo al suo cuore e che le faranno dire a un certo punto che non sono più di nessuno, sono solo dell'Italia, nel senso che abbiura sostanzialmente anche al fascismo al quale aveva aderito da giovane, è il primo solco scavato in questi pochi anni, perché se parliamo dal 43 al 47 sono 4 anni di esperienze drammatiche, il primo solco ma ce ne saranno poi molti molti altri, Rosanna vuoi raccontare tu qualcosa? Sì, e la Pasquinelli in quel suo viaggio in Istria nel 45 raccolse molte testimonianze anche mettendo nomi e cognomi, uno delle scrupoli che io e Rosanna ci facevamo era che tra gli altri c'era anche i nomi degli Aguzzini e che avranno probabilmente oggi parenti, conoscenti, per cui il nostro scrupolo era lei a un primo momento, la Pasquinelli aveva messo solo le iniziali. Dopo Ammatita e alcuni appena in alto in questa carta e veline che abbiamo trovato, lei aggiunge anche il nome completo, a un certo punto noi ci siamo dette, ma per amore di verità dobbiamo avere il coraggio di testimoniare anche noi a nostra volta le cose fino in fondo, andando fino in fondo. Ci ha colpito soprattutto questa angoscia probabilmente della popolazione locale di essere stata abbandonata, perché gli italiani furono abbandonati in effetti, la popolazione fu abbandonata e deve essere stata una cosa terribile e questa è una cosa che ci ha accompagnato durante tutto il periodo che stavamo lavorando al libro, erano giornate difficili veramente, perché queste storie ormai facevano parte di noi e noi sentivamo tutta l'angoscia, tutta la difficoltà di affrontare cose come queste, però nonostante ciò siamo andate avanti e una delle cose che ci siamo poste, una delle mete che ci siamo poste era quella di verificare le fonti, perché non volevamo che fosse soltanto lei a parlare, quindi siamo andate a interrogare degli storici, abbiamo fatto delle ricerche nei vari istituti, abbiamo incontrato delle persone, proprio per… e ci siamo messi in contatto anche con chi aveva avuto delle perdite in quei momenti, delle famiglie che avevano perso, parenti che erano stati infobbati, che avevano a loro volta fatto delle ricerche negli anni scorsi, anche raccogliendo testimonianze, che hanno confermato che ciò che noi andavamo scrivendo corrispondeva a verità e per cui questo è stato un lavoro veramente di scavo, quasi uno scavo archeologico per andare a cercare appunto questi elementi, per rafforzare quello che stavamo dicendo, perché era fondamentale avere un riscontro diretto e questo l'abbiamo avuto. Il materiale è molto ricco, perché racconta e condovizza di particolari le vicende di queste persone che lei ha avuto modo di incontrare, ma anche le storie che a sua volta lei ha raccolto da un personaggio come il comandante dei vigili del fuoco di Pola, che era il comandante Arzaric. Lei ha raccolto le testimonianze anche dei suoi vigili del fuoco, per cui che molti di loro, subito dopo la riesumazione delle salme, delle foibe, cosa avevano fatto? Avevano scritto immediatamente il racconto di quello che avevano vissuto per non dimenticare, perché se non si stemperasse con il tempo. Ed è una cosa che abbiamo avuto modo di verificare in altre occasioni, anche i militari, anche i soldati, quando lasciavano un posto nel quale erano stati i prigionieri e così via, raccoglievano subito le idee, raccontavano il fatto perché dà la paura di dimenticare o comunque che la quotidianità stemperasse quello che avevano visto e sentito. E quindi questi racconti sono molto, molto forti. Sono molto forti perché sono dettati dal momento in cui succedono. Quindi queste persone le scrivono ancora con questa dose anche di paura, di ansia. Ricordiamo che Arzaric dovette lasciare l'Istria perché è perseguitato. Venne in Italia e fu raggiunto in Italia e fu oggetto di un attentato anche dopo molti anni che la guerra era terminata. E lui se ne è andato in silenzio, senza mai fare testimonianza, senza mai poi essere sentito da alcuno. Per cui è un personaggio che va rivalutato perché veramente ha avuto un sacrificio incredibile perché hanno lavorato in condizioni terribili e noi lo descriviamo. Un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo e che vorrei qui raccontare, dopo che il libro è uscito abbiamo avuto delle telefonate di varie persone che ci chiedevano se nel libro c'erano anche i loro parenti. a tanti anni, a decenni da questi fatti, ancora c'è gente che cerca la verità sulle persone che sono scomparse, della loro famiglia. In particolare ci è arrivata una lettera molto toccante dal Canada di un signore ormai ultraottantenne che non aveva mai saputo la fine che aveva fatto suo padre. Lui sa che l'avevano portato via, era di Gimino. E noi abbiamo preso il libro, siamo andati a vedere, c'erano i particolari. Scriveva il posto in cui era stato ucciso e le modalità con cui si è stato portato via e quando è stato ucciso concretamente, in che giorno è avvenuta l'esecuzione. Questi pochi dati, questa signora che ci ha scritto che è la moglie di questo personaggio, ci ha detto che abbiamo restituito a quest'uomo ormai ultraottantenne il suo padre, perché il fatto di sapere dove era finito, come era finito, per lui era un riconciliarsi con la storia, un ritrovare un qualcosa che tutta la vita aveva inseguito. E questa cosa mi ha colpito moltissimo, veramente, mi ha colpito moltissimo perché quando si fa un lavoro come questo, con un lavoro rigoroso, abbiamo cercato di spiegare ogni passaggio perché non ci fossero fraintendimenti, anche perché sulla Paschinelli sono state dette delle cose assurde che hanno creato dei luoghi comuni incredibili. Posso chiederti, Rosanna, siccome questa presentazione verrà vista anche dai giovani, puoi ricordare i motivi per cui Maria ha ucciso il generale? Il diefici febbraio 1947 si decideva le sorti, alla conferenza per la pace si decideva le sorti di queste terre. Quindi i grandi avrebbero deciso cosa ne sarebbe stato dell'Istria e il 10 febbraio si decide che l'Istria viene consegnata all'Iugoslavia e lei spara al generale De Winton, non all'uomo, ma al simbolo dei quattro grandi che in quel momento decidevano di cedere la pola all'Iugoslavia, quindi l'Istria, le nostre terre all'Iugoslavia. Da là inizia l'esodo. In effetti i primi diciamo così momenti, il fatto eclatante che ha fatto decidere l'esodo degli istriani è stata a Vergarolla, a Pola, quindi i fatti di Vergarolla sono stati decisivi, ma c'è stato tutto un momento in cui ancora si attendeva, ancora magari c'era qualche speranza, il 10 febbraio erano già pronte le navi che avrebbero portato la gente oltre mare e quindi avrebbero svottato le località istriane. Puoi ricordare anche che Maria era sicura che sarebbe stata uccisa? Sì, lei quella mattina arrivò in questo posto dove si stava componendo il plotone per la consegna della città con il loro comandante e lei arrivò sul capotto rosso e a un certo punto estrasse la pistola e sparò alle spalle del comandante. Arzaric cadde, fu colpito e cadde. Lei era convinta che il plotone di conseguenza avrebbe sparato, se non che le armi erano caricate a salve e quindi in effetti lei rimase la ferma ad aspettare che la venissero a prendere e che la portassero in carcere e così è stato. Dopo pochissimo, il 19 marzo, già c'è il processo a Trieste e lei viene condannata a morte, la condanna a morte sarà poi tramutata in Ergastolo e uscirà dopo 18 anni di galera, non per sua richiesta, lei non ha mai chiesto la grazia, l'ha chiesta la sorella, lei esce e non avrà più i diritti civili e quindi dovrà vivere assistita dalla sorella, darà delle lezioni a casa perché era comunque un'insegnante, era comunque una maestra e lavorerà con i bambini che lei adorava ed è mancata nel 2013, aveva compiuto cent'anni. Grazie. Rossana, hai detto Arzaric senza volere prima. Il generale De Winter, ma no, ha corretto Rossana. Il generale De Winter. Ritornando su quanto raccontava appunto su Arzaric e su tutte quelle vicende legate alle esumazioni dei corpi, dalle foibe di quei giorni, parliamo sempre dell'eccidio compiuto a ridosso dell'8 settembre, quindi sono pochissimi giorni in cui si compie il tragico destino di tanta gente innocente, che non c'entra niente col fascismo, che non ha niente a che vedere, sono contadini, impiegati, gente qualsiasi, donne, bambini no, fortunatamente i bambini vengono, appunto come raccontava prima Rosanna, vengono lasciati a casa in mezzo al letto, mentre mamma e papà vengono portati via. Ecco, ma quello che volevo far presente è che noi tutti ormai in Italia, per tutta una serie di motivi, per un tam tam che c'è stato in questi anni, conosciamo la storia di Norma Cossetto, ma la storia di Norma Cossetto va considerata come un emblema, perché le persone che furono portate via da casa in quei giorni, l'elenco di quelle persone che poi tra l'altro la Pasquinelli raccoglie con dovizia di particolari, descrivendone il posto dove sono stati infoibati, il modo con cui sono stati uccisi, professione, età, i genitori, raccoglie tutti i dati in maniera molto precisa e puntuale, tutte quelle persone subiscono delle fine vita simili a quelle di Norma Cossetto, c'è la storia emblematica che con Rosanna raccontiamo sempre, perché è una cosa che fa veramente impressione, di tre ragazze, tre giovani, la più grande ha 22 anni, le sorelle Radecchi, la più grande ha 22 anni e la sua unica colpa è quella di essersi innamorata di un militare italiano, di averlo sposato e stava aspettando un bambino da lui, le altre due sue sorelle sono molto più piccole, una 19, una 17 anni, sono ragazze giovanissime, tutte e tre vengono prese dai titini e tutte e tre uccise in maniera che non riporto qui, perché è impossibile raccontare una cosa del genere e vengono poi tutte e tre gettate nelle foibe. Il padre assiste all'esumazione dalla foibe in cui sono state gettate e si accorge che sono le sue figlie dall'abito, dalla camicia che una delle tre indossa. Sono scene strazianti, per dire che la Norma Cossetto è un emblema, ma tutta quella gente subì atrocità simili a quelle. Ecco perché non si può assolvere quanto è stato fatto, perché nell'approssimarsi del 10 febbraio, quando escono libri come questi, si subiscono un po' così messaggi negativi, gente che dice ma perché scrivete su una donna di questo tipo eccetera. Noi non abbiamo scritto su una donna di questo tipo, abbiamo scritto sulle vicende che la Pasquinelli ha vissuto e ha raccontato, ha vissuto in prima persona e ha raccontato da persone che hanno vissuto in prima persona, indipendentemente dall'azione che poi lei compì. Sono fatti che vanno raccontati, vanno presi per come sono e devono far capire che non ci sono giustificazioni per atrocità di questo tipo. Questo è un po' il tentativo che molti fanno sempre di dire ma in qualche maniera se la sono cercata, non ci possono essere giustificazioni di questo tipo ad atrocità di così gravi. Nelle foibe sono finiti uomini anziani che facevano i contadini, ragazzi giovanissimi che lavoravano in campagna con i genitori, donne che… l'elevatrice, che colpe poteva avere un'elevatrice? Sono storie che vanno rese pubbliche, vanno raccontate. La Pasquinelli si adoperò in maniera spasmodica per renderle note. La sua prima preoccupazione era quella di raccontarle al governo del Sud, di riuscire a raggiungere il governo del Sud perché conoscesse i fatti e intervenisse per salvare l'Istria, perché questa era la sua missione, questa era quello che lei voleva fare, salvare l'Istria italiana. Si adoperò in tutte le maniere, andò a contattare persino i partigiani, i partigiani della Osopo ovviamente che erano quelli che in qualche maniera avrebbero potuto più facilmente ascoltarla, non certamente i partigiani della Garibaldi che erano finiti, per lo più aderenti al Partito Comunista, erano finiti sotto il nono corpus di Tito e quindi sicuramente non potevano parteggiare per lo scopo della Pasquinelli. Lei fece tutte queste operazioni, consideriamo che siamo in un periodo ancora di guerra, siamo ancora in un periodo in cui ci sono spie, personaggi terribili che girano e teniamo anche in considerazione che i partigiani della Osopo erano tutti sotto sottotiro dei tedeschi. Lei compie missioni, li contatta, li incontra, va fine in Veneto a Conegliano ad incontrarli per in qualche maniera far sentire la sua voce, la sua verità, le sue volontà ed è un'opera che lei fa a rischio e pericolo della sua incolumità, indubbiamente, tant'è che alcuni dei partigiani che lei contatterà poi verranno catturati e uccisi, non torneranno più dai campi di sterminio. Insomma, sono pagine che come noi le apprendiamo? Le apprendiamo sempre dai documenti della Pasquinelli e poi dalle ricerche che abbiamo fatto negli istituti della storia contemporanea della Resistenza, dove emergono i fascicoli dei processi che sono stati svolti, sia il processo della Pasquinelli ma anche i processi a Giugno Valero Borghese e Pasquinelli e il processo che è stato tenuto in Friuli per i fatti della Malga Porzios e lì emergono tutti questi dati, tutti questi fatti, questi contatti che lei ha e che sono confermati appunto da documenti reali, da testimonianze trasverse, perché ci sono i partigiani della Osoppo che vanno a testimoniare in favore della Pasquinelli a dimostrazione che lei si è mossa, che lei ha fatto tutte queste azioni per salvare l'Istria, ecco perché a tanti che ci hanno detto cosa c'entra la Pasquinelli che era di Firenze o di Bergamo, qualcuno città o una città o qualcuno città, c'entra la Pasquinelli con l'Istria, c'entra come? La Pasquinelli è stata forse l'unica che in qualche maniera in quel periodo, in quel tempo terribile in cui gli istriani stessi avevano perso ogni speranza è stata l'unica che ci ha creduto fino in fondo e fino all'ultimo ha combattuto. Tra le testimonianze e i processi ne abbiamo una che ci ha colpito molto e quella di Guido Slataper, fratello del famoso scrittore, al quale chiedono a lui come a tanti altri se aveva avuto l'impressione che si trattasse di una fascista e nessuno risponde di sì. Nonostante sia passata la vulgata che Pasquinelli fosse una fervente fascista e quindi come tale avesse commesso quello che ha commesso, loro addirittura dicono che se si fossero accorti di avere di fronte una persona, una fascista, mai più avrebbero preso contatti con lei, mai più avrebbero portato avanti il discorso di questa collaborazione che invece poi non si fece anche perché lei finì in galera, perché lei è tornata dall'Istria proprio per accogliere queste testimonianze di cui noi abbiamo scritto, a un certo punto arriva, i tedeschi la prendono e la mettono in galera, quindi lei in quel periodo alla fine, tra apri e maggio del 45 sarà in galera, poi lei esce e va a Milano, quindi non sarà presente quando verranno decise certe cose molto importanti purtroppo perché si trovava in questa situazione, altri porteranno avanti questi contatti e lo porteranno avanti in modo da non poter assicurare che le cose si svolgessero in modo diverso. Ecco questa è stata una cosa che ci ha colpito moltissimo perché quando abbiamo trovato queste testimonianze le abbiamo lette veramente con grande interesse appunto per questo motivo. Il libro poi si conclude, a parte le nostre, diciamo così, gli elenchi dell'infoibati che alcuni elenchi hanno già stati resi noti, erano emersi, però questo è quello che Arzale ci probabilmente ha dato alla Pasquinelli in quegli anni perché lei a Pola aveva acquisito tutto questo materiale perché lei era stata Pola per lungo periodo perché lavorava appunto con i profughi, ma alla fine noi abbiamo trovato anche una testimonianza molto recente, si parla del 2019 a Tupliacco dove c'era una delle entrate alle miniere dell'Arsia, un imbuto simile a quello della foiba di Basovizza che è stato chiuso, è stato chiuso e mai più riaperto. A un certo punto sopra hanno costruito un centro sportivo e la gente ha cominciato, volevano a costruire il centro sportivo e prima che iniziassero il lavoro la gente riempiva di lumini questo luogo. Il parroco non sapeva di cosa si trattasse e si è informato, ha indagato e la gente ha detto che là in quella in quella voragine erano finiti centinaia di persone. Infatti noi sappiamo che di molti non si è mai saputa la sorte. Mai stato aperto, mai riesumate, per cui è una pagina di storia ancora completamente da indagare e il prete, il parroco che non è istriano, mosso e colpito da questo racconto, ha fatto costruire una specie di piccolo muretto in cemento e all'interno ha fatto mettere una lapide che ricorda tutti gli infoi batti. È la prima lapide che è stata fatta in Istria nel 2019 di cui nessuno sa nulla. E quindi il nostro auspicio è che anche attraverso questo libro, speriamo, noi vorremmo tanto prima o poi cominciare a presentarlo in presenza perché è un messaggio che porteremo dappertutto. Esiste questo luogo, partiamo da là, è giusto che si riconoscano questi torti subiti, che si faccia verità sulla storia, che finalmente ci si inchini e si porti un fiore su questi luoghi. Grazie Rosanna. Posso chiederti ancora una cosa. Tu hai conosciuto Maria quando l'hai intervistata nel 2007. che impressione ti ha dato così come carattere? Quando ha ripercorso queste fasi della sua vita, dopo tanti anni, come ti è sembrata? Era lucidissima, era lucidissima ed era pronta a testimoniare fino a un certo punto. Aveva una voce impostata, ci si vedeva tutta la forza di una persona forte, una persona che aveva veramente una forza interna incredibile. A un certo punto lei si deve continuare, perché probabilmente certe cose anche per lei erano molto difficili da ricordare, da rimbangare, perché erano momenti dolorosi. Quando le chiese di Vargarolla, abbiamo il filmato e si mise la mano sulla fronte così e disse dovevo esserci anch'io quel giorno, come se cercasse un luogo in cui terminare la sua vita in modo violento, ma diciamo così emblematico per lasciare un segno. Purtroppo lei non è riuscita a portare a compimento una simile cosa, però c'era questo seme, c'era, era in ucce e questo mi aveva colpito, questa sua forza, questa capacità di racconciare anche. Una cosa curiosa, a un certo punto mi disse, io ero sempre circondata da uomini bellissimi e mi sono chiesta dove si è passata la sua vita in galera, però era simpatica che da questo punto di vista le piaceva scherzare, le piaceva scherzare. Ai due signori che erano con noi faceva i complimenti per i calzini, c'era una persona che era molto anche spiritosa per certi versi, una donna che aveva sofferto tantissimo, anche perché lei, essendo religiosa, il fatto di aver ucciso un uomo per lei era una colpa che non poteva andare, non si poteva espiare, era una colpa, infatti lei aveva quasi quasi per lei aspettare la morte dopo la sentenza era una liberazione, non lo è stato l'ergastolo perché è stato duro, perché lei diceva sempre che il fiato corto di questo morto se lo portava sul collo. Hai nominato tu il carcere, mi ricordo che tempo fa quando parlavamo di queste cose insieme io e te, tu mi dicevi che in Maria convivevano diversi aspetti, infatti mentre si trovava in carcere, è vero che si è messa in evidenza la sua sensibilità, la sua bontà d'animo in un certo senso? Verso le mamme, verso i bambini, sì le mamme che erano in carcere con i bambini, lei era stata, purtroppo l'avevano mandata a Perugia, poi l'avevano spostata a Venezia per una sorta di cattiveria, le avevano fatto una cattiveria e dopodiché finì a Firenze, quindi lei ha girato diversi carceri, ma in tutti questi, in questi posti in cui è stata si è preoccupata delle altre donne incarcerate come lei, lei era un altruista, era una che si parlava giorni fa appunto dell'aspetto psicologico, lei aveva un io molto forte ma che si annientava di fronte al noi, il noi prevaleva, per cui il gruppo, l'appartenenza, il fatto di portare avanti una causa per gli altri era più forte dell'egoismo di preoccuparsi di se stessa, era proprio un fenomeno psicologico che è stato studiato, che si conosce benissimo e in lei era molto forte, in lei era molto forte. C'è anche da dire che in tutte le testimonianze ai processi, tutte le testimonianze riportano proprio questo aspetto della sua bontà, lei ha sempre questo spirito di abnegazione per gli altri che è un ricorrente, tutte le testimonianze soprattutto delle donne che in qualche maniera hanno avuto da lei solidarietà e aiuto, riportano questo aspetto di grande bontà e di grande disponibilità d'animo, è una ricorrente, non lo si dice così, lo si dice anche perché proprio è testimoniato dai suoi coetanei, diciamo così, vero? che sarà ulteriore materia di studio per il prossimo libro perché stiamo lavorando appunto al suo carteggio, al processo, a tutto ciò che avvenne dopo, alla sua incarcerazione che non è stata semplice, che non è stata facile, lei ha fatto lo sopero della fame, ricordiamoci che lei era tenuta in carcere in Italia ma per conto terzi perché lei era stata condannata al governo militare alleato, per cui lei diceva ma come possono i miei tenermi in carcere mentre sono stati gli altri, cioè io ho ucciso un inglese per protestare contro i grandi, cosa c'entra? Io sono dell'Italia quindi perché l'Italia si comporta così con me? Lei avrebbe quasi quasi voluto che la portassero in Inghilterra e fare la galera in Inghilterra perché là si sentiva, cioè avrebbe sentita legittima l'incarcerazione, non in Italia, che era il paese per il quale aveva combattuto per la libertà nel suo paese quindi è una contraddizione terribile, terribile per lei Bene, grazie, vi devo ringraziare immensamente Rosanna e Rossana veramente immensamente a nome di tutti gli esuli questo libro è fondamentale, ha una grandissima importanza sia per conoscere la storia di Maria Pasquinelli in modo anche la società privata che viene approfondita ulteriormente sia per tutto il resto, cioè per la conoscenza di quello che noi stiamo cercando di portare avanti la conoscenza della verità di ciò che è successo sul confine orientale e c'è ancora tanto da conoscere, ti ringrazio anticipatamente per il prossimo libro e ovviamente speriamo di presentarlo in presenza Contaci, tu lo fai Ci saremo, ci saremo Speriamo proprio di essere in presenza perché vuol dire che staremo bene Grazie a tutti Arrivederci Grazie 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 a tutti.